ehi la ciurma io sono ben ritrovati qui su expeditions viking stiamo continuando esplorare le paludi qua mi sa che i lupi stavano facendo banchetto di questa gente morta da dove veniva questo uomo non spero mai probabilmente ma qua c'è una cassa abbandonata e c'è nulla di particolarmente interessante ma comunque della roba qua finisce tutto mi sa perché altro non mi pare che ci siano poi chiuso tutto e speravo che almeno nel prodotto ci fossero delle erbe strane magiche dei medicamenti che ci davano tipo più mille medicine no c'è la una roccia allora facciamo che circondare adesso mi ridite tutto il discorso da casa no ok dove di qua si passa acqua c'è un quale c'è un kern la polvere delle corde c'è roba qua giù no e poi dov'altro dobbiamo esplorare che non abbiamo ancora visto boh su di qua no allora c'è la casa noi siamo arrivati da qua quindi non siamo passati qua su ahia chi è silenzio guarda qua appena avanti allora ci sono delle tracce fresche sul fango e anche degli occhi non allenati possono vedere che c'è un gruppo davvero molto numeroso direzionato in quella parte davanti vedi senti il suono dei voci e vedi del fuoco passato verso gli alberi non sappiamo chi possano essere conti almeno dieci persone un po davanti a te mentre ti nascondi tra gli alberi comunque controlli che quattro di loro sono legati in catene e sotto guardia gli occhi pieni di paura e hanno le spalle che segna insomma che sono stati presi guarda i loro scudi e loro equipaggiamento valse test sono degli uomini di scule non possiamo lasciarli qua cosa dobbiamo fare allora gli elementi di sorpresa io non lo so sono tanti sono davvero tanti inoltre il fatto è che loro non hanno di sicuro usato l'onore nei nostri confronti nel senso che ci hanno attaccato con dei tizi strani di gunnar hanno assoldato la gente contro di noi di nascosto per cui direi che riprendiamo all'improvviso molte le idee dei cacciatori sono sparsi intorno al fuoco stanno chiacchierando stanno facendo attenzione particolare all'uomo al grosso uomo con una cicatrice sulla pelle e la donna che ha un collare di pelliccia a parte il resto più lontano vedi un qualcosa di di luminescente caldo no è più la rispetto al calore insomma al fuoco penso ci sono quattro schiavi incatenati che sono controllati da un cacciatore che sembra davvero miserabile allora o secchiamo i capi oppure ci assicuriamo della salvezza dei prigionieri mi preoccuperei dei prigionieri anche se rischiamo male posso di sicuro seccare quel cacciatore vicino ai ai prigionieri prima che abbia la possibilità di toccarli vai cattile ok loro sono liberi però il problema è che abbiamo la gente forte che c'è addosso riesce ad andare no siamo messi proprio in un punto scomodissimo tu che ti riesci a beccare qualcuno per caso questo no questo no nessuno di questi allora facciamo che ah no lui riesce ad avanzare in parte si aia e niente no neffia vogliono neffia riesce ad avanzare no deve fare tutto il giro dell'oca tu stai qua dietro per ora e tu corre qua eh no arci restai qua per ora ma posso muovere anche loro si ma non fanno danno per niente ritiratevi ma che mi sembra la cosa più saggia e che non so se riesco a difenderli questi porca miseria per niente per niente così no sono davvero parecchi e rischio davvero mica male aia sono in sei loro noi siamo di più ma questo è uno che cura ma ha lo scudo due di questi sono scudati sia questo che questo porca miseria allora allora non riesco a beccarlo troppo lontano ehm proviamo ad andare su questo ah già un'armatura mica da ridere ma con gunnar riesco a fare qualcosa mi sa che non arrivo da nessuno con gunnar no la metterei qua più che altro per non farmi accerchiare completamente ahia c'è un interrupting ah che male fortissimo ma già ma c'hanno un'armatura incredibile non gli faccio un fico secco di nulla eh tu gunnar riesci in qualche modo allora no perchè lui gli fa anche tra l'altro gli rallenta mica da ridere quello è in cover questi non li vede questo lo vede ma allora se io facessi il ranging shot qua vai allora lui è ancora bloccato e non può fare niente ok possiamo cercare l'accerchiamento da questo lato sperando di rompere delle gunnar perchè gunnar ha già messo e porca miseria erano ben difesi comunque eh roscva viene qua e i tizi qua mi sa che danno non ne fanno dovrebbero andare piuttosto magari menare quelli con l'arco ma non fanno danno uguale facciamo un diversivo aia aaaah che damage sono stupido io che non faccio caso alla frecciumba la frecciumba vuol dire che sono pronti a ricambiare il fuoco praticamente vai la dietro tu lox harried ma si va per il sogno di cespugli quante storie che fa vai qua dietro eh siamo parecchi più di loro ma rischio di perdere nefia in questo turno aiaa infatti t'ho detto mi sa che ha perso questo combattimento è di brutto l'unico che era messo male è curato e noi abbiamo perso uno scusa il colpo critico non gli ho fatto niente siano scemi siano scemi adesso fa il quick shot no dai però siano tutti morti troppo difficile sto gioco non va non va non va non va cosa catt posso fare e non gli ho fatto assolutamente nulla come piglio l'attacco d'opportunità se le tiro una frecciumba addosso questo è ancora nella rete in the web corala in the web picchia almeno picchia ma non fa niente è completamente useless ah gli altri sono super tankosi d'accordo però anche i miei che sono completamente inutili senti vai al solar chair e lei eh lei è finita la trappola pure roskva che fa? roskva un corno di niente perchè qua sono stati tutti bene quando roskva può fare qualcosa e tu che fai? nulla però questo è come suona come attacco devo stunnarlo ho sbagliato di brutto faccio il tactical move e mi muovo qua dietro ancora ma nooo li ha demoralizzati comunque questa la perdiamo di sicuro dovrò save scammare prossimo giro la facciamo uccidendo prima i due tizi nobili mi dispiace però guardate che danno incredibile che fanno questi dai mi ha seccato tutti gli schiavi pure ho detto salviamo gli schiavi invece sono tutti morti uguali ehhh allora no tu devi stunnare assolutamente lui nooo cazzer roskva cura lui please se no lo perdiamo per sempre tipo poi tra l'altro dobbiamo ricordare che c'è le trappole dobbiamo per forza passare in mezzo altrimenti perdiamo un sacco di yeah bravo tu stupido servetto riesci a tirarlo no allora dagli un pugno di faccia prisa tu riesci a nooo l'abbiamo persa cosa continuiamo? è inutile concludiamo il video qua io vi invito a lasciare un mi piace iscrivervi per cosa non l'avete già fatto lasciare un commento e vi auguro una buona giornata ciao 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 Grazie a tutti.